Partiamo con la riete. Una giornata favorevole vi permette di smaltire il lavoro accumulato, di occuparvi più da vicino di un amico recentemente un po' trascurato. Toro, un cielo astrale complesso, poco amico, vi rende inquieti, vi fa vedere nemici e oscure trame a vostro danno anche dove non esiste nulla di tutto ciò. Occhio ai conflitti sul luogo di lavoro. Gemelli, tanti, di sicuro troppi, pianeti che affollano il vostro cielo, tutti vogliono dire la loro finendo soltanto col creare tanto caos. Siete confusi, influenzabili e non vi sentite in grado di affrontare gli impegni quotidiani come vorreste. Cancro, giorno spettacolare, se siete autonomi nel lavoro potrebbe esserci l'occasione giusta per cambiare qualcosa nella vostra vita professionale, occasione che dovrete cogliere al volo. Leone, non tutte le battaglie possono essere vinte, quindi non tutte le sfide possono essere accettate, almeno che non siate disposti a mettere in conto una possibile sconfitta, ma l'esperienza dimostra che perdere non vi piace proprio. Vergine, contate su un bell'aspetto planetario schierato a vostro favore, come sfruttare un così valido aiuto? Rimboccatevi le maniche e date il meglio di voi, sia nel lavoro che nella sfera privata. La serata è ideale per rilassarvi. Bilancia, senza essere esaltante, la giornata comunque scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di gioia o di piacere. Afferrate le occasioni d'oro in arrivo sul fronte economico. Scorpione, il settore affettivo vi vede al massimo fulgore e in ottima forma, capaci quindi di stupire il partner con effetti speciali. Avrete eccellenti opportunità sotto il profilo professionale. Sagittario, gli astri incoraggiano un approccio razionale ai problemi, il che non guasta, visto che ultimamente vi siete lasciati guidare troppo spesso dalle vostre passioni e non da un'attenta analisi dei fatti. Capricorno, questo giorno potrebbe essere molto interessante sotto il profilo professionale e non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e soprattutto vincenti. Acquario, la giornata sarà sì propizia sul piano professionale, ma i contrattempi e gli imprevisti non mancheranno. Metteteli in conto. Tutto potrà migliorare nella vostra vita se saprete cogliere gli insegnamenti del destino. Pesci, le stelle sono con voi, vi offrono stimoli, opportunità, entusiasmo, acume. Potete coronare ogni desiderio. Tutto bene per quanto riguarda i sentimenti. È l'amore che fa muovere il mondo e voi vi sentite in grado di spostare, se necessario, l'intero universo. Grazie. 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 Grazie.